Andrea Martina Revisore Qualche tempo fa ho trovato in un cassetto una vecchia pratica. L'ho aperta e ho trovato un contratto scritto da un praticante di mio nonno con alcune sue annotazioni a penna. L'ho confrontato con quello che vedevo sul monitor, un contratto con tanti mark-up colorati e mi sono domandato ma che cosa vuol dire essere professionista oggi e come si fa a diventarlo? Guardate questa foto, vedete il professionista più anziano, il senior, l'artigiano, l'imprenditore di prima generazione che forte di una conoscenza acquisita nel tempo insegna ad un ragazzo più giovane il quale è ben consapevole di apprendere da un maestro ed è disposto in cambio di lavorare per molte ore al giorno essendo pagato molto poco anche nulla, vero? Praticanti. Accetta tutto ciò perché sa che un giorno toccherà anche a lui questo stesso onere e onore. Ora guardate questa foto, il più giovane è davanti, è lui che comanda e insegna a persone molto più vecchie di lui. Com'è possibile, com'è stato possibile tutto questo? Nell'arco di un decennio, grazie a quella che si può definire una nuova scoperta del fuoco, internet, sembra che si sia invertito il flusso, la direzione, del trasferimento intergenerazionale delle competenze, anche nel mondo delle professioni, delle aziende. Per la prima volta nella storia, sembra che siano i giovani a dover insegnare ai vecchi. Tutto questo è stato possibile grazie, abbiamo detto, ad internet. Internet non ha cambiato solo la nostra concezione dello spazio e del tempo e ha accelerato drammaticamente le nostre vite. Internet ha creato uno spazio di condivisione globale, la rete, in cui milioni di persone hanno riversato la propria esperienza, la propria conoscenza, i propri saperi imparati nel tempo. Grazie a questo, ciascuno di noi, in maniera gratuita, in maniera immediata, può accedere a un patrimonio di informazioni infinito e può, senza recarsi in una biblioteca, senza stare a bottega da qualcuno, senza lavorare in un'azienda, in uno studio professionale, imparare quanto c'è di più nuovo al mondo. Bello, no? Secondo me non è un caso che oggi si parli tanto di start-up e di spazi di co-working e siano diventato il nuovo mantra. Non è, a mio avviso, la crisi economica. D'altra parte, le nuove generazioni, i giovani d'oggi, che senso ha che imparino, che vadano a bottega da qualcuno che non ha più nulla da insegnarli di nuovo? Sono cambiati completamente i modelli, i parametri. Tanto vale rischiarsela da soli, iniziare qualcosa di nuovo, prendendo dalla rete quello che serve e cercando di offrire soluzioni nuove, senza dover lavorare gratis per altri. Magari lavorando, invece, insieme ad altri coetanei che hanno competenze diverse, apprese, sfruttando ancora una volta la rete. Guardate, io ve ne parlo non per sentito dire. Quattro anni fa, proprio grazie a un ragazzo conosciuto su internet, molto più giovane di me, abbiamo creato una start-up che ha generato un software che a sua volta genera documenti legali su internet e li genera in dieci lingue diverse e abbiamo clienti da 50 paesi. vendiamo diritto in tutto il mondo. Bello, no? Ma non voglio parlarvi di questo. Voglio parlarvi sempre del trasferimento generazionale delle competenze e ora pensare alla generazione, non più giovane, ma alla generazione di chi è stato un nostro maestro. Improvvisamente, grazie a internet di nuovo, una generazione di imprenditori, di professionisti, che aveva imparato a sua volta dai propri maestri, una certa serie di competenze, si è trovato un analfabeta 2.0. È arrivato il processo civile telematico, è arrivata la fatturazione elettronica, la firma digitale, un sacco di novità, tutte insieme. Difficile stare al passo. E ben presto, anche lo stesso esercizio dei diritti civili per questa generazione diventerà complesso. Il dialogare con la pubblica amministrazione, richiedere un certificato, persino votare, richiederà l'uso esclusivo di strumenti tecnologici. Rischiamo quindi che un'intera generazione venga estromessa. Ma a questo punto vi voglio fare una domanda, perché io me la sono posta. Siamo sicuri che questa nuova generazione sia autosufficiente? Non abbia bisogno di maestri? Abbiamo la rete dalla quale possiamo apprendere qualsiasi cosa. E dall'altro lato vi faccio una domanda. Vi fareste difendere da un avvocato che ha imparato solo da banche dati? Da un medico che ha imparato solo su internet? È una domanda sempre più attuale. E per questo ho pensato di rivolgerla ad un professionista d'eccezione da molto tempo. L'avvocato Marco Tullio Cicerone. Cicerone per i suoi tempi è stato un grande innovatore. È stato il primo a utilizzare la scienza retorica per vincere in giudizio, per convincere il giudice e l'arte del persuadere. Ma Cicerone è rimasto famoso fino ai giorni di oggi perché è riuscito a scandagliare nel profondo l'animo umano, grazie proprio alla sua esperienza come avvocato. E se ci pensate bene, ciascun avvocato ha da duemila anni sempre lo stesso cliente, un uomo. Siamo tutti, prima di essere professionisti e imprenditori, uomini al servizio di altri uomini. E non è un caso quindi che a Stanford, nel corso di computer science, siano necessari crediti di materie umanistiche. Lo strumento senza un fine non ha alcun senso. Quindi mi domando, tutto si sta evolvendo. I recinti delle professioni non sono più validi, non ci sono più solo avvocati, notai e commercialisti. Ci sono avvocati che scrivono software, ci sono matematici che scrivono algoritmi per verificare la correttezza delle decisioni dei giudici. Ci sono ingegneri che scrivono smart contract, cioè contratti autoeseguenti attraverso la blockchain. Ma un po' come con Uber o con Airbnb, tutti noi possiamo essere ogni giorno professionisti o clienti, albergatori o clienti. Possiamo essere maestri o allievi. Quindi la mia domanda è, chi è il professionista 3.0? E soprattutto, torno alla domanda iniziale, è possibile che esista ora una generazione autosufficiente, che non ha più bisogno di maestri? Io credo che la risposta sia no. Credo che abbiamo una cassetta degli attrezzi molto più ampia, molti più strumenti, la rete è qualcosa di fondamentale. Ma solo attraverso un'alleanza tra generazioni riusciremo a rispondere alle esigenze di un uomo che vive di esperienza anche, l'esperienza umana. E guardate, a me piacerebbe moltissimo conoscere le opinioni, così come mi sarebbe piaciuto parlare con mio nonno di questi stessi temi. E forse la tecnologia ci può dare uno strumento. Utilizzate per favore questo hashtag e scrivete le vostre opinioni. Ah, chi non è capace può chiedere sempre al suo vicino più giovane. Grazie. 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 Grazie.